L'Associazione dei Commercianti al Dettaglio dell'Alto Garda e L'Edro avrà un nuovo Presidente. Il nuovo Consiglio è ora composto da Claudio Miorelli, Erna Dallona, Nicola Ribaga, Francesca Lorenzi, Laura Armani, Dimitri Alberti, Manuela Stein, Franco Gamba ed Eliana Vettori. Bruno Lunelli, Presidente uscente, è risultato il secondo dei non eletti con solo 46 preferenze. Sulla base dei voti, il Consiglio, fortemente rinnovato e con una consistente componente rosa, che si riunirà nei prossimi giorni, dovrà eleggere il nuovo Presidente, ruolo per il quale sembrano esservi pochi dubbi rispetto all'elezione di Claudio Miorelli. Il diretto interessato invita alla calma e aspetta i prossimi passaggi formali. Sarà il Consiglio ad eleggere il Presidente, ha detto Miorelli. Io al momento non lo sono. Questa elezione è stata contraddistinta da una forte partecipazione e da un forte segnale di cambiamento, con la volontà, credo, di dare un'impronta più sindacale. Anche per gli albergatori è stato tempo di elezioni, ma in questo caso le conferme sono state maggiori delle sorprese. Restano Enzo Bassetti, Presidente, Silvio Rigatti, Cristian Prandi, Graziano Zambanini, Ennio Bertolini, Fernando Speranza, Maurizio Bresciani e Corrado Trentini. Mentre le new entry rispondono ai nomi di Giorgia Calzà, Niccolò Filippi, Franco Mattei, Carlo Azzolini, Alessandro Angelini ed Elena Morandi. Cambio per quanto riguarda i pubblici esercizi. Presidente è Vasco Bresciani, già presente nel precedente Consiglio.